Potenziato il laboratorio analisi dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, la Aslo 1 ha inaugurato il nuovo settore della via sicurezza a livello 3 al laboratorio analisi cittadino diretto dal dottor Giulio Di Michele. Si tratta di un laboratorio di sicurezza che è figlio di un progetto che prevede la dotazione di attrezzature tali da renderlo adeguato al lavoro con microurbanismi del gruppo di rischio 3, vale a dire quelli che presentano levati rischi per il personale che lavora all'interno. Si tratta di un mini laboratorio più sicuro all'interno dello stesso laboratorio analisi e con percorso di ingresso e uscita separato, dotato di cappe di sicurezza biologica ed equipaggiamento speciale per la protezione personale, una logistica importante perché gli operatori che lavorano all'interno trattano con agenti di alto rischio per la tubercolosi ad esempio ma anche per la SARS-CoV in questo momento. In questo laboratorio è un laboratorio di biosicurezza 3, ci permette di lavorare agenti del terzo gruppo, agenti infettivi del terzo gruppo come per esempio quello della tubercolosi ma anche e soprattutto in questo momento anche il SARS-CoV-2. Ci sono dei percorsi tutti quanti obbligati, non si può confondere il percorso di ingresso con quello di uscita perché sennò si porterebbe poi una contaminazione di eventuali batteri all'esterno. Il modo di lavorare è comunque un ambiente a pressione negativa, qui ci sono sempre questi ambienti con un gradiente di pressione negativa, verso l'esterno non può uscire nulla, cioè la pressione è rivolta negativamente verso il tetto dove ci sta un estrattore di aria che filtra l'aria al 100% diciamo e quindi l'aria che esce fuori è pulita. Gli operatori che lavoreranno qui dentro saranno quelli che sono al momento addetti al settore di microbiologia e al settore di biologia molecolare, quindi saranno una decina in tutto. Tutti i tecnici di laboratorio sono di 30 perché ovviamente si fa fronte a tutte le esigenze dell'ospedale, non soltanto a quelle della biosicurezza ovviamente. Il laboratorio analisi dell'ospedale spesso è stato al centro dell'attenzione per le lunghe file lamentate dall'utenza per le analisi tradizionali e già si è intervenuti con una stanza parallela dove poter attendere il proprio turno in sicurezza ma si sta completando anche questo aspetto con un tabellone interno per chiamare i numeri e rendere il tutto più adeguato.